amici di canale 10 buonasera e un caro saluto anche agli amici dal web che possono vedere infatti questa trasmissione digitando www.tg10.it anche questa sera sono da solo e la ragione è sempre la stessa dobbiamo continuare a spiegare la legge elettorale o dio l'abbiamo fatta nella puntata precedente però abbiamo utilizzato nomi tra virgolette di fantasia stavolta invece la analizzeremo con i veri candidati con nome e cognome permettetemi però prima ecco di passare alla spiegazione se ci riesco ovviamente la legge elettorale consentitemi di esprimere una mia opinione che è quella che ho l'impressione che nella nostra città questa campagna elettorale si sia per certi versi quasi fermata quasi bloccata che faccia fatica a decollare sicuramente sono tante le ragioni che potrebbero spiegare tale disinteresse e anzi andrebbero sin anche analizzate essendo tante però le ragioni ci vorrebbe una puntata tutta dedicata a questo argomento per ora mi fermo a dire che ha inciso su questo apparente blocco anche il regolamento della par condicio che quest'anno è ancora più astruso e minuzioso infatti impone di garantire le stesse condizioni e lo stesso format ad ogni forma ad ogni forza politica se li infitti tutti assieme finisce con diventare quasi una riunione di condominio se poi li dividi a scaglione stai sicuro che i più piccoli si attaccheranno a mille cavilli per contestare gli abbinamenti perché mi ha invitato insieme a quello e non con quell'altro insomma questa par condicio ha inciso e ha inciso anche il nuova la nuova legge elettorale il proporzionale cioè di fatto la legge con la quale andremo a votare è una legge proporzionale solo una spruzzatina di maggioritario e noi per circa vent'anni per più di vent'anni al 94 siamo stati invece abituati ad una legge maggioritaria un centro destra con il suo candidato premier come prodi un centro scusato in centro sinistra un centro destra col suo candidato premier ad esempio berlusconi e aveva senso tu potevi invitare il leader di una coalizione con il leader di un'altra coalizione e adesso che infiti adesso che ci è proporzionale che cosa fai devi invitare quelli di forza italia sì ma devi invitare pure quelle della lega ma devi invitare pure quelli di fratelli d'italia ma devi invitare quelli di noi con l'italia devi invitare devi invitare cioè ecco tutti i partiti che compongono la coalizione e così se infiti il pd devi invitare il pd ma devi invitare anche più europa di emma bonino ma deve e deve invitare insieme dei socialisti devi invitare quelli civica popolare per intendisci la lorenzin e già siamo arrivati a otto e per cui poi devi invitare quelle 5 stelle devi invitare libri uguali devi invitare casa pound potere al popolo il popolo a potere veramente ci troveremmo di fronte ad una riunione ad una riunione di 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 contominio e per cui molti emittenti hanno pure qualche ragione nel non invitare i i leader o i segretari di partito a questo incontro a delle multe a delle multe anche anche salato per cui ecco si preferisce affidarsi se ci sia ci sia ci si affida ai alla rete a facebook ora siamo attenti con la rete con facebook cari amici non c'è dubbio che la rete è un esprimento portentoso fondamentale anche di democrazia se vogliamo ma nella rete ascoltatemi non c'è un conduttore non c'è uno che controlla assolutamente e poi esistono anche anche gli cosiddetti a ter per intenderci quello che si chiamano i traditori so chi sarebbero questi traditori quelli che nella rete si nascondono dietro pseudonomi peppe capisci il condottiero della notte ma in realtà ma in realtà è che diffondono insulti giudizi negativi insinuazioni su personaggi sono anonimi tu non nessuno nessuno capito nessuno li controlla e per cui la tv invece con tutti i suoi difetti rimane predominante si può parlare di programmi puoi sviluppare un certo discorso che può essere anche contestato però hai la possibilità di spiegarlo hai la possibilità hai la possibilità di farti capire prendiamo ad esempio l'ultima notizia che impazza sul web i bonifici non fatti da alcuni deputati alle cinque stelle web si scatena ma si scatena con giudizi sommari difficilmente ecco si va incontro ad un ragionamento perché le cose cari amici che mi ascoltati non sono mai semplici sono in specie complesse e hanno bisogno quindi ecco di ragionamenti hanno bisogno e hanno bisogno di spiegazioni io sono sempre confinto che bisogna partire dai fatti i fatti sono sacri è scritto in un nel primo quotidiano inglese le opinioni i commenti sono liberi ma i fatti sono sacri e io voglio far voglio partire questa serata con un fatto prego la regia di far vedere il filmato relativo a sant'elia di calta di setta inaugurato il nuovo pronto soccorso dell'ospedale sant'elia un investimento di oltre 350 mila euro che ha consentito di ampliare a modernare i locali delle nuove piastre già predisposti tempo addietro rendendoli più efficienti anche dal punto di vista dell'accoglienza dei pazienti e dei percorsi che conducono alle prestazioni sanitarie lavori di ampliamento della struttura che hanno visto impegnate tre ditte una di caltanissette due dell'agrigentino che hanno consentito di consegnare una struttura di oltre mille metri quadrati in tre mesi era un impegno che io avevo assunto con la città di caltanissetta e con tutto il bacino di utenza che drena sul nostro pronto soccorso del sant'elia impegno che abbiamo mantenuto i locali sono stati ristrutturati abbiamo realizzato una struttura che adeguata alle esigenze dei nostri pazienti è una struttura moderna sono stati studiati percorsi e funzionale e quindi sicuramente sarà un valore aggiunto abbiamo pensato ad un pronto soccorso che potesse essere il pronto soccorso del lab regionale sant'elia di caltanissetta perché è stata una conquista avere lab e lab va dotato delle strutture adeguate quindi tutto ciò che va fatto va fatto in quest'ottica devo dire che sono estremamente soddisfatto del risultato raggiunto ho avuto una squadra all'interno dell'azienda che mi ha collaborato al massimo ho avuto una squadra esterna compresi gli architetti esterne l'architetto russo e il suo staff che ci hanno supportato al cento per cento e devo dire che ho avuto un aiuto importantissimo in tutte le altre istituzioni di caltanissetta adesso lo consegniamo alla città e lo affidiamo alla città perché il pronto soccorso non è il nostro il pronto soccorso è dei cittadini io mi auguro che i cittadini lo rispettino perché la prestazione fatta in un ambiente decorosi organizzato è sicuramente quello che noi pretendiamo ci sarà un incremento di organico appena ci sbloccheranno le piante organiche e tutto questo dovrebbe ottimizzare la nostra postazione sono contento che a fine mandato posso dire di avere mantenuto questo impegno tra gli interventi attuati una camera calda che dall'esterno conduce i pazienti barellati all'interno della struttura dove grazie al triage vengono smistati negli ambulatori per i codici verdi giaddi rossi e rosa un'ampia e confortevole sala d'attesa per i pazienti deambulanti e un'ampia sala d'attesa assistita con poltrone e lettini mantenuta anche la funzionalità del lobby che sarà accessibile dal nuovo pronto soccorso il pronto soccorso è stato ampliato come estensione in misura davvero notevole e abbiamo curato molto l'aspetto accoglienza del paziente abbiamo realizzato un'ampia area di attesa assistita dove i pazienti potranno permanere in pronto soccorso in condizioni ambientali assolutamente decorose pronto soccorso si prevede di attivarlo nella notte fra il prossimo giovedì e venerdì abbiamo già quasi tutto pronto dobbiamo funzionalizzare i locali e poi dare il via a questa avventura avete visto che le cose belle siamo capaci di farli anche in sicilia siamo capaci di realizzarle anche nella nostra provincia peccato che le cose belle tra virgolette le sappiamo realizzate nel capoluogo a caltanissetta cari amici avete visto un filmato che dà la misura del grande risultato raggiunto dalla sanità nissena ancora più grande se raffrontata e paragonata alla condizione definita comatosa dell'ospedale di Gela che la sanità di Gela sia in coma ecco intanto avete visto un servizio che a mio giudizio non ha bisogno di nessun commento basta vedere il filmato e filmato parla da solo la classe dirigente quanto vuole sa riesce a realizzare strutture di grande livello e invece a me da gelese tocca leggere il comunicato che il segretario della CISL Angelo Ietro ha rilasciato giorno 7 febbraio due giorni dopo che lo stesso direttore generale dell'ASP Carmelo Iacono due giorni dopo che questo direttore ha vinto ha visitato per l'ultima volta l'ospedale di Gela dichiarandosi soddisfatto dei risultati raggiunti voglio ricordare al dottor Carmelo Iacono che tra virgolette stato direttore generale scelto dalla giunta dell'ex governatore Crocetta voglio ricordare al dottore Iacono che ha ragione a sentirsi soddisfatto ma si deve sentire soddisfatto per i risultati raggiunti a Gela se è vero come vero che la CISL sostiene che l'ospedale di Gela versa in condizioni comatose che riguardano il centro di salute mentale, malattie infettive, radioterapia, neurologia, nefrologia, ortopedia, chirurgia e gruppo operatorio e notizia di ieri anche la cardiologia cari amici gelesi visto che la campagna elettorale segna il passo ci sono dei motivi a Gela in fece per infiammare la campagna elettorale e noi gelesi di ragioni che ci dovrebbero portare ad infiammarla ne abbiamo tante noi gelesi abbiamo assistito alla chiusura del petrochimico oggi senza nulla in campio abbiamo assistito al fallimento dell'agroverde il più grande e il più importante progetto fotovoltaico d'Europa è fallito come tutti sappiamo Gela città di 75 mila abitanti che ha dato lacrime e sanque per lo sviluppo e lo stabilimento a un ospedale di secondo di terzo livello non neanche paragonabile con quello del capoluogo che ha meno abitanti di Gela non dimenticatelo e che ha pagato un prezzo meno caro rispetto a Gela ma sia ben chiaro cari amici gelesi visto che siamo tutti paesani dobbiamo essere onesti e dirci la verità la colpa non è dei dissedi no no loro sono stati bravi la colpa è di noi gelesi me compreso la colpa è della classe dirigente che ci ha governato e che ci ha amministrato altrimenti non saremmo onesti indellettualmente e invece lo dobbiamo essere ecco allora vi dico che ragioni per impegnarci nella campagna elettorale ce ne sono ce ne sono parecce ho citato lei ho continuato con l'agroverde dovrei continuare con l'agricoltura abbandonata a se stessa e non dovrei dimenticare l'ordine pubblico non passa giorno senza che ci sia una macchina incendiata e non dobbiamo dimenticare lo stato disastroso delle strada di quella strada che collega Gela con Manfia dove è veramente vergognoso e da più di due anni che si verificano incidenti senza che nessuno intervenga per cui cari amici rimbocchiamoci le maniche affrontiamo le elezioni e chiediamo conto a quelli che vogliono diventare deputati a quelli che vogliono diventare senatori dobbiamo chiedere il perché di questo stato di cose e come intendano intervenire per aiutare la condizione disastrosa in cui versa la nostra città abbiamo cioè più ragione degli altri per impegnarci in questa campagna elettorale perché Gela non è una città come le altre è una città emblematica così come emblematica Sesto San Giovanni dice hanno perso i comunisti perché quella era la Stalingrado d'Italia sono città emblematiche Gela è una città è una città emblematica perché abbiamo ospitato la più grande industria petrochimica d'Europa e vogliamo sapere e si chiederanno come si comporta come si comporta questa città che non è una città qualsiasi è una città che ha conosciuto la mafia più violenta forse di tutta di tutta Europa ecco ecco non ci possiamo cioè noi non ci possiamo permettere il russo di starsene alla finestra di stare alla finestra e di guardare come va a finire assolutamente no dobbiamo far politica dobbiamo fare delle domande e dobbiamo pretendere delle risposte scusate per lo sfogo ma era secondo me guardate 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 signori era inevitabile questo sfogo ma pensateci un po' ma possiamo discutere solo di rimborse elettorali di bonifici possiamo discutere solo se quel consigliere comunale ha abbandonato quella coalizione e è passata in un'altra coalizione ma possiamo discutere solo del fatto che quel determinato personaggio non è stato candidato ma possiamo dire ma vi rendete conto vi rendete conto che agela che agela se guardiamo quello che si sta verificando in certe coalizioni saranno importanti per loro per certi personaggi ma non sicuramente per la città io per delicatezza non voglio analizzare quello che si verifica in alcune coalizioni ne voglio fare dei nomi ma sono questi i problemi che Gela deve affrontare ma i problemi che Gela deve affrontare è se Tizio non è più con Saro ed è passato con altri ma il problema di Gela è se il PD voti quella la cardinale o no non mi pare non mi pare che i problemi siano questi non mi pare non mi pare i problemi sono i problemi sono più importanti con vocazione di Europa i problemi sono i problemi del fisco i problemi sono quelli della sanità i problemi sono quelli della immigrazione a livello voglio dire nazionale ma Gela ha anche ulteriore problemi ha i problemi della disoccupazione ha il problema della delinquenza ha il problema della ha il problema ha problemi gravissimi ha i problemi che 5 minuti fa io ho elencato e se c'è una città che è il lusso di non fare politica se c'è una città che non ti può permettere questo lusso questa è proprio Gela che ha di fronte a sé problemi più drammatici da affrontare e vi sembra niente il problema della sanità e vi sembra niente quello che abbiamo visto in quel filmato è un caso che Caltanissetta abbia un pronto soccorso degno delle più civili città settentrionali e noi abbiamo invece un pronto soccorso degno di una società nordafricana vi sembra un caso o il risultato in fece o il risultato di scelte politiche fatte nel passato e temo che continuano ad essere fatte nel presente ce lo dobbiamo chiedere cari amici qui non è in ciò che è il futuro di Tizio o di Caio o di Filano qui è in ciò che è il futuro della città ma è anche in ciò che è il mio futuro non mi devo candidare a nulla qui è in ciò che è il futuro dei nostri figli qui è in ciò che è il futuro dei nostri nipoti abbiamo una città che si sta spopolando abbiamo una città che si sta regredendo su tanti aspetti della vita civile e della vita sociale e della vita culturale abbiamo il dovere di intervenire ma i partiti hanno l'obbligo di aiutare la città hanno l'obbligo se non se la sentano pazienza pazienza vadano a fare altri altri lavori vadano a fare altri lavori vadano a fare altri lavori la città ha bisogno di risposte per favore prendiamo la scheda numero uno perché altrimenti con questi sassoliti va a finire che non affronto l'argomento invece che dovrei affrontare scheda numero uno come vedete nella scheda numero uno ritorniamo ritorniamo per favore cerchiamo nel nostro piccolo di invogliare la gente a interessarsi di politica vedete nella scheda numero uno abbiamo 230 deputati che verranno eletti con l'uninominale 232 deputati verranno eletti con la sfida che nella passata trasmissione ho definita tu per tu chi prende un voto in più sale 232 386 verranno invece eletti con il proporzionale e senza voto di preferenza questi 386 vengono di fatto scelti dai partiti poi abbiamo 110 senatori che verranno scelti con l'uninominale solito discorso sfida tu per tu e 193 senatori verranno scelti col proporzionale come potete notare dalla scheda il numero dei deputati a proporzionale sono 386 che sarebbero qualcosa come 154 in più rispetto all'uninominale i senatori col proporzionale sono 193 che sarebbero 83 in più rispetto ai senatori uninominali per cui in effetti la legge potrebbe definirsi non un misto di proporzionale e uninominale ma una legge proporzionale con qualche piccola sfruzzatina di uninominale fermatevi fermatevi sempre a questa scheda noi abbiamo 232 deputati all'uninominale di questi 232 19 saranno i deputati che verranno eletti in Sicilia con il proporzionale invece di 186 deputati del proporzionale la Sicilia ne elegge 33 quindi 19 deputati siciliani verranno eletti con l'uninominale 33 invece col proporzionale per quanto riguarda i senatori 9 verranno eletti con l'uninominale e 16 verranno eletti con il proporzionale come vedete i deputati del proporzionale sono quasi il doppio rispetto ai deputati dell'uninominale e lo stesso dicasi per i senatori 16 saranno quelli del proporzionale 9 sono quelli del uninominale ci siamo? passiamo per favore alla scheda numero 2 allora abbiamo all'uninominale Grazia Augello Pino Federico Dedalo Pignatone Franca Gennuso Vincenzo Giuliana Salvo Lupica Sefora Paola Guastella questi candidati di questi candidati all'uninominale ne verrà eletto uno solo quello cioè che prenderà un voto in più quindi o verrà eletto Laugello o Pino Federico o Dedalo Pignatone o Franca Gennuso o Vincenzo Giuliana o Salvo Lupica o Sefora Paola Guastella ci siamo capiti ogni candidato dell'uninominale è collegato a delle liste ad esempio no ad esempio Grazia Maria Augello è collegata alla lista del PD di civica popolare per intenderci la formazione della Lorenzin di insieme la formazione di Nencine dei Verdi e di più è Europa questi sono i candidati del proporzionale che non sono candidati solo nel collegio di Gela questi sono candidati nel collegio di Gela nel collegio di Agrigento e in parte nel collegio di Trapani quindi nel collegio di Agrigento e nel collegio di Trapani cambieranno i nominativi dei candidati dell'uninominale questi invece sono candidati in collegi plurinominali più di un nominale ecco perché sono sicuri capolista almeno ai partiti grossi di essere già stati eletti Pino Federico è collegato invece a Forza Italia che vede come capolista la gelese Giussi Bartolozzi la Lega che vede come capolista Alessandro Pagano Fratelli d'Italia che vede come capolista Carolina Varchi e noi con l'Italia che vede capolista Mariella Ippolito attuale credo attuale credo Assessore nella Giunta Musumeci poi abbiamo Dedalo Pignatone collegato solo alla lista del Movimento 5 Stelle Franca Gennuso collegata solo alla lista di Libere Uguali Vincenzo Giuliana collegato alla lista di Il Popolo a Potere Salvo Lupica collegata alla lista di Casa Pound e Sephora Pala Guastella collegata alla lista del Popolo della Famiglia Ascoltatemi allora facciamo degli esempi concreti in maniera ecco da non creare confusione un elettore vuol votare PD bene metterà il simbolo sul PD ma deve sapere che se mette la croce sul simbolo PD automaticamente è come se avesse votato anche per grazia a Ugello non è possibile il voto di giunto se un elettore vuole votare Piero Lonigro mette il simbolo sulla lista di insieme ma il voto va pure a grazia a Ugello cioè chi vota una lista collegata grazia a Ugello automaticamente sta votando anche per grazia a Ugello viceversa chi sceglie di votare grazia a Ugello può votare solo un partito collegato a grazia a Ugello o segna il PD o vota civica popolare o vota insieme o vota più Europa non è possibile cioè il voto di giunto non è possibile ad esempio votare grazia a Ugello e segnare mettere la croce sul simbolo della Lega mi sono spiegato mi sono spiegato quindi voto non di giunto fermiamoci ai capolista la capolista è Daniela Cardinale secondo Marca Campagna eccetera questi non hanno bisogno di voti di preferenza ecco a questi ci penserà il partito del proporzionale il PD ad esempio visto che è il primo partito prende il 25% dei voti gli toccheranno ad esempio 150 deputati si ripartiscono in tutte le regioni e molto probabilmente quindi capolista di questi grandi partiti se non sono già quasi eletti poco ci manca grazie a Ugello potrà non essere eletta perché compete con Pino Federico con De Devo Pignatoni con Branche e ne sale uno solo ma la Daniela Cardinale visto che capolista di un grande partito al 99% è già stata eletta deputata lo stesso discorso passiamo per esempio per Pino Federico Pino Federico si dovrà conquistare il posto perché perché è all'uninominale e quindi salirà quello che prende un voto in più se prende un voto in più di Gela, ma è capolista del collegio di Nominale di Novo, di Caltanissetta, Agrigento e Trapani. E siccome è un partito che supererà sicuramente il 15%, anche Giuse Bartolozzi si può definire già una deputatessa, piaccia o no, purtroppo è così. Andiamo adesso a Dedalo Pignatone, collegato solo con una lista, ma la capolista del Movimento 5 Stelle è Azzurra Cancellieri, che sarebbe poi la sorella di Giancarlo Cancellieri, candidato alle ultime elezioni regionali come governatore. Anche qui non esiste il problema, né di Pino Federico né di Grazia Ugello, perché Grazia Ugello è collegato, come vedete, scheda numero due, a quattro partiti, Pino Federico è collegato a quattro partiti, Dedalo Pignatone invece è collegato solo al Movimento 5 Stelle, o voti solo Dedalo Pignatone, o voti solo al Movimento 5 Stelle, o metti il segno su tutti e due, il problema qui non cambia perché abbiamo uno e uno. Così dicasi per Franca e Genuso, collegato al Libro Uguali, così dicasi per Vicenzo Giuliana, collegato al potere al popolo, così dicasi per Salvo Lupica, collegato a Casa Pound, così dicasi per Guastella, collegato al popolo della famiglia. Quindi un po' diciamo per concludere e per farci e per capirci meglio. Il problema si pone per Grazia Ugello e Pino Federico, perché sono solo i due candidati collegati a più liste. Come vedete, scheda due e scheda tre, Dedalo Pignatone e tutti gli altri sono collegati a una lista. Lei è facile, o segni il nome del candidato o segni il nome di un partito. Invece per Pino Federico e per l'Augello, essendo collegato a quattro partiti, se tu vuoi Pino Federico devi votare Pino Federico, ma se voglio votare io Forza Italia devi mettere il simbolo a Pino Federico e a Forza Italia. E se io voglio votare Fratelli d'Italia e non voglio votare a Pino Federico, non puoi farlo. Qui non è possibile voto di giunto. Chi vota Fratelli d'Italia automaticamente vota Pino Federico, chi vota noi per l'Italia automaticamente vota per Pino Federico. Viceversa, e se io voto solo Pino Federico che succede? Succede che tu vota Pino Federico e il voto va ripartito in proporzione a tutti i quattro partiti che votano per Pino Federico. Quindi un quarto va a Forza Italia, un terzo alla Lega, a un decimo e così via. Avete capito? Quindi voi avete tre possibilità. O votare solo Pino Federico, o votare solo un partito collegato e il voto va pure a Pino Federico, o votare Pino Federico e un partito collegato. E' chiaro? Lo stesso dicasi per grazia a Ugello. Più facile è il discorso di Deiano Pegnatone, più facile il discorso di Franco e Genuso, che sono collegati a un solo partito. Mi sono spiegato un'altra cosa e passiamo all'altra scheda. La soglia di sbarramento è del 3%, cioè verranno eletti deputati solo i candidati i cui partiti raggiungono il 3%. E che succede? Ad esempio, se Civica Popolare, scheda numero 2, non dovesse raggiungere il 3%, dipende se raggiunge il 2% o se va al di sotto dell'1%. Se raggiunge il 2% i voti non si perdono, vanno al PD, vanno cioè al partito maggiore della coalizione. Se invece vanno la percentuale al di sotto dell'1%, i voti si perdono. Infatti, ascoltatemi, Civica Popolare e il partito è la Lorenzin. E l'altro ieri, stando ai sondaggi, non raggiungeva l'1%, per cui sono venuti in accorso Gentiloni e Renzi. Perché? Perché è importante che raggiunga l'1,5% o il 2%, perché i voti non si perdono, anzi vanno a finire nel PD. E lo stesso dicasi per insieme, che ha pure problemi di raggiungere il 3%, e lo stesso non si può dire per più Europa che dai sondaggi invece mi è dato a più del 3%. Mi seguite? Quindi, soglie e sbarramento 3%, però se i partiti non raggiungono il 3%, ma raggiungono dall'1 al 3%, i voti non si perdono e vanno al partito maggiore della coalizione. Teoricamente, insomma, per intenderci solo sul piano teorico, se il PD prendesse da solo il 25% e Civica Popolare il 2%, insieme il 2% e più Europa il 2%, 2, 4, 6%, il PD dal 25% passerebbe al 31%. Quindi non sono, voglio dire, differenze di poco conto, sono cose importanti. Lo stesso discorso vale per Pino Federico e per le liste collegate, ma qui il discorso è più semplice perché forse Italia è chiaro che supererà il 3%, la Lega altrettanto, me lo ho neppure, il problema un po' rimane per noi con l'Italia. Ecco, forte in Sicilia, ma un po' di affanno lo sta provando nel resto d'Italia e la ragione è chiara perché la coalizione è una coalizione, ma ognuno corre per i fatti suoi in verità. Per cui, come avete capito, c'è una lotta tra Forza Italia e la Lega, a chi prende più voti. E quindi la polarizzazione, questo scontro non tanto sotterraneo tra Forza Italia e Lega, è privilegio a Forza Italia e la Lega e gli altri partiti, insomma, vengono un po' oscurati, per cui noi con l'Italia, a questa pure difficoltà di raggiungere il 3, tanto è vero, tanto è vero che ha candidato un assessore, la Mariella Ippolito, ancora oggi è assessore dell'Aggiunta, me, su, mu, su, me, ci. Cosa dire di fronte a questi dati, signore? Si può votare alla Camera fino a 18 anni e al Senato a 25 anni, no fino a 18 anni, da 18 anni in su al Senato a 30 anni in su. Insomma, signore, scheda numero due sempre, da questo si può dedurre un fatto, Augello si deve giocare la partita, Pino Federico serve giocare la partita, Dedello Pignatone serve giocare la partita, Franca e Genoso serve giocare la partita, tutti gli altri, Lupica e Giuliane, serve giocare la partita, la Daniela Cardinale è già quasi deputata, la Giuse Bartolozzi è quasi deputata, l'Azzurra Cancelleri è quasi o forse è già deputata, vendre donne, la parità di cedere, scusatemi, la dovremmo cedere noi uomini, tre deputati sicuri perché a proporzionale, perché non si devono cercare voti sono tutte e tre, donne, la Daniela Cardinale che è di Mussomeli, figlia dell'ex ministro Salvatore Cardinale, Azurra Cancelleri, sorella di Giancarlo Cancelleri, Giuse Bartolozzi, gelese ma la cui candidatura è immaturata comunque negli ambienti palermitani e romani, anche se il magistrato ha studiato a Gela, al liceo classico, quando i presidi si chiamavano però Nicolino, Nicolò di Fede e oltretutto io conosco molto bene. Ecco signore, ecco signore, noi abbiamo già tre deputatesse, tutte e tre donne, beh, 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 questa parità di cedere qualche volta dovremmo chiederla noi uomini. Tanti auguri a tutti gli altri candidati che però, che però insomma, per carità, siamo nella par condicio e non voglio esprimere giudizi, però dovrebbero farsi sentire con più efficacia, dovrebbero venire a Gela, qualcuno è venuta, ma dovrebbero parlare dei problemi di Gela. Loro rappresentano anche il problema di Gela, rappresentano anche il territorio di Gela. E non è vero che il Parlamento non serve a niente rispetto al potere regionale, non è vero. Il protocollo di intesa, il contratto d'aria, le grandi decisioni vengono presa a Roma e i deputati che rappresentano il nostro territorio si devono far sentire e devono dire cosa intentano fare di questo territorio martoriato, altrimenti i non votanti raggiungeranno una percentuale superiore al 50% e a correre i pericoli sarà la democrazia. Si devono far sentire, devono venire e non in ambienti per pochi intimi, ma devono parlare col popolo, devono parlare con chi cioè paga il prezzo più caro di questa crisi, con chi paga il prezzo più caro di scelte politiche, politiche, errate. Passiamo adesso, altrimenti mi prolungo troppo, con la scheda numero 4, che indicano le previsioni solo nei collegi uninominali. Camera collegi uninominale. Con l'azzurro è segnata la coalizione al centro-destra, perché nell'uninominale, come vi ricordate, ci sono le coalizioni, non i singoli partiti, è chiaro? Quindi centro-destra azzurro, centro-sinistra rosso, Movimento 5 Stelle, segnato in giallo, sono le tre coalizioni, le tre coalizioni maggiori. Come vedete l'azzurro spicca in alto a sinistra Piemonte, sotto il Piemonte abbiamo la Lombardia, andando verso destra abbiamo Trentino Alto Adice, Friuli-Versia e Giula, Veneto. Fermiamoci qui. Lombardia. La Lombardia, le previsioni, tanto almeno ai sontaggi, eleggerà all'uninominale, dove c'è la sfida è a tu per tu. 33 deputati contro 4 del centro-sinistra e 0, 5 Stelle. Il Piemonte 11 contro 3 del centro-sinistra e 3 del centro-destra, Veneto 16, 1 e 2. Come vedete non c'è proporzione, non c'è equilibrio tra centro-destra, centro-sinistra e 5 Stelle. Le proiezioni danno avanti nettamente la coalizione del centro-destra, perché forse Italia è forte, ma la Vega è fortissima, per cui unendosi non ce n'è per nessuno. Il rosso, il centro-sinistra, invece resiste, se guardate bene questa scheda, in alto a destra, nell'Emilia Romagna, dove prevale nettamente sia sull'azzurro che sul giallo, e in Toscana, da parte di Renzi, dove prevale 11 contro 2 e contro ad 1. A questo punto, invece, esistono altre regioni dove la battaglia, se ci fate caso, è data. La battaglia tra centro-destra e Movimento 5 Stelle. Guardate nel centro il Lazio, dove abbiamo le previsioni d'anno, 11 seggi azzurro, cioè centro-destra, e 7 seggi giallo, cioè centro 5 Stelle. Poi sotto il Lazio la Sicilia, che ci interessa particolarmente, siamo quasi in varità, c'è centro-destra e 5 Stelle, 10 con 9, Campania e Calabria. Cosa ci indica sostanzialmente, signori, questa scheda? Questa scheda ci fa capire, intanto che l'Italia, come ho ripetuto nelle passate trasmissioni, è divisa in tre, dal punto di vista economico e anche dal punto di vista politico. Abbiamo un nord, dove prevale nettamente il centro-destra, un'Italia del centro, diciamo Toscana, Emilia, e un poco Trentino Alto Adice, perché i sud sono alleati con il partito autonomista, dove prevale diciamo il centro-sinistra e poi abbiamo il sud, dove c'è una battaglia in corso tra centro-destra e 5 Stelle. Insomma, cari amici, la sorte della prossima legislatura si giocherà sul fronte del sud. Il voto meridionale può far saltare sia la maggioranza di centro-destra sia le larghe intese. Cosa ci dice questa scheda? Questa scheda, cari amici, ci dice che il nord più prudente sull'avventura, perché teme che le ricette economiche di Di Maio facciano dei disastri. Il nord è in grande ripresa, è a timore, ha paura. Il sud, che invece è garantito o dimenticato, a quanto pare, almeno dai sondaggi, è disposto a rischiare. Perché è importante questa scheda? Perché passiamo per favore alla scheda numero 5? Perché le possibili maggioranza maggioranze che ci potranno essere a partire dal 6 marzo sono le tre che vi sto facendo vedere. Dichiaro al momento che c'è una sola cosa, nessuno con questa legge elettorale sicuramente raggiungerà una maggioranza. Perché non dimenticatelo, non esiste alcun premio di maggioranza. Quando dicono se raggiungiamo il 40%, lo fanno per confondere, per mischiare le carte, per acciappare dei voti in più, ma non esiste alcun premio di maggioranza. Al momento, stando almeno ai sondaggi, nessun partito e nessuna coalizione conquisterà la maggioranza assoluta dei voti. Per cui quali sono le possibili soluzioni? Le possibili soluzioni sono, primo, che ci sia una coalizione formata d'APD, partiti aggregati, APD, quelli che fanno parte della sua coalizione, più Europa, Civica, eccetera. Forza Italia, noi con l'Italia, forze libri uguali, più trasfugli vari. La seconda possibilità è quella tra Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, noi con l'Italia, sempre che raggiungano ovviamente il 3%, e trasfugli vari. La terza possibilità è 5 Stelle, Lega, Fratelli d'Italia, fratelli d'Italia e trasfugli di Pietro Grasso. A questa possibilità se ne deve aggiungere un'altra e che si faccia una coalizione o un governo cosiddetto del Presidente che dia l'incarico per formare una nuova e più democratica legge elettorale è andare fra un anno di nuovo al voto. Non c'è niente di male. Il voto è indice di democrazia. In Spagna si è votato per la seconda volta quando non si è raggiunta la maggioranza. Non c'è niente di male. Ma qual è il pericolo? Il pericolo è che le tre aggregazioni, le tre possibili maggioranze che si potranno formare non sono così ampie da poter garantire un governo sicuro. Tutt'a più possono venire fuori maggioranze deboli. Ma le maggioranze, quando sono deboli, sono ricattabili da chiunque. E per cui l'Italia, che oggi è data in ripresa economica, non si può permettere il lusso, visto che appartiene all'Europa e visto che il suo destino è strettamente legato al destino dell'Europa, l'Italia non si può permettere il lusso di un governo debole di un governo, cioè che non sappia prendere le decisioni per dare una spinta all'economia. Perché di questo, cari amici, vi dovete rendere conto. L'Italia è il terzo partner più importante dell'Unione Europea. Non si può prescindere dall'interesse dell'Europa. Per intenderci, cari amici, e con questo chiudo perché forse vi ho annoiato, ecco, vi serva solo questo piccolo appunto. Macron, presidente della Repubblica Francese, ha prima fatto suonare l'inno alla gioia di Beethoven, che è l'inno europeo, e dopo ha fatto suonare la massignese, l'inno francese, quasi a voler indicare che prima di essere il presidente della Francia, è un componente essenziale dell'Europa. Noi non possiamo assolutamente allontanarci dall'Europa e non è un caso che Berlusconi sia andato a parlare con i massimi vertici dell'Europa, per rassenerarli, per garantirli sulla posizione di Salvini, per dire non vi preoccupate, faccio io. Non è un caso che Di Maio sia andato a Londra a parlare con la grande finanza internazionale. Perché non è vero che l'Italia può fare quello che vuole. L'Italia, certo, certo che può fare le leggi, ma che non siano in contrasto con quello che ci lega con questa grande costruzione che rappresenta l'ancora di salvataggio per noi, ma soprattutto per i nostri figli e per i nostri nipoti. Chiunque vi dovesse dire il contrario, vi dice una colossale bugia. Votate chi volete, secondo la vostra sensibilità, ma sappiate che la partita si giocherà il 6 marzo, ad urne chiuse e sappiate che le decisioni più importanti le prenderà quel galantuomo che è siciliano, che si chiama Sergio Mattarella. Nessuno può dire di essere candidato alla presidenza. questo lo stabilirà Sergio Mattarella e sicuramente non si tratta questo di un male, sicuramente sarà un bene perché il Presidente Mattarella ha già dato garanzia di prudenza e di grande sensibilità democratica. Grazie, ci vediamo la prossima volta. Grazie.